Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continuiamo a parlare di export, export in Adobe Premiere Pro Lo facciamo con qualche impostazione avanzata Nello scorso tutorial abbiamo visto come impostare il codec audio e il codec video per decidere il formato e le caratteristiche del nostro video finale quest'oggi vedremo, chiamiamole così, qualche impostazione avanzata Vedremo come inserire un'immagine in sovraimpressione Vedremo come inserire il timecode nel nostro video finale di export Vedremo in un altro video come inserire i sottotitoli che abbiamo creato in timeline Vedremo poi come pubblicare direttamente sui nostri social network preferiti i contenuti multimediali che esportiamo con Adobe Premiere Pro Infatti possiamo esportare direttamente il video e caricarlo su Facebook, YouTube, Vimeo o addirittura su un FTP Funzione molto 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 comoda Vedremo queste cose in tre tutorial, tre video tutorial separati Quattro forse sono in totale Quattro video tutorial separati Tra pochissimo vi ricordo www.fabioambrosi.it Sito dove troverete l'indice con tutti gli argomenti di questo corso Iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi video E chiaramente cliccate la mia pagina Facebook Fabio Ambrosi Iniziamo subito dal prossimo video Iniziamo subito dal prossimo video Iniziamo subito dal prossimo video